Rai Sport ti chiede, un bilancio della stagione da dove ripartire il prossimo anno? Un bilancio molto positivo perché il nostro giugno di torno è stato un giugno di torno pieno di risultati positivi e soprattutto di prestazione convincente. Si riparte dal nostro modo di stare in campo, dalla nostra mentalità e dal nostro modo di lavorare tutti i giorni con grande disponibilità e convinzione. Sempre Rai, c'è un Milan prima e dopo Ibra, chi è cresciuto di più con il suo arrivo? Tutti, tutti sono cresciuti, tutti siamo cresciuti, credo che sicuramente l'arrivo di Ibra, di Kier ci abbia alzato il livello della squadra, ma credo che sia stato il lavoro fatto anche nei mesi precedenti che poi ci ha permesso di trovare dei meccanismi, di trovare delle soluzioni in campo che prima non c'erano. Carlo Pellegatti, abbiamo visto piangere Bonaventura, che cosa è stato per lei e per il Milan Jack? Jack è stato un giocatore molto importante, un gran professionista, molto attaccato al lavoro, molto attaccato al Milan e quindi lo ringrazio per quello che ha fatto. Prota, Radio Rosso Nera, dalla ripresa gli unici che hanno sempre giocato al netto di infortunie squalifiche sono stati Kessi e Benasserre. Di che tipo di giocatore hai bisogno per poter dare un cambio a loro due? Beh, è chiaro che sono state fatte e saranno fatte delle valutazioni, è chiaro che il reparto dei centrocampisti non può essere composto solamente da due titolari, ma l'anno prossimo ci sarà bisogno di quattro titolari e ci sarà bisogno di 22 titolari. La cosa importante che abbiamo fatto in questo periodo è che tutti i giocatori si sono dimostrati giocatori da mina e tutti i giocatori si sono dimostrati pronti quando sono stati chiamati in causa. È chiaro che dobbiamo, speriamo di avere una competizione in più l'anno prossimo e quindi dobbiamo alzare anche il livello di tutto l'organico. La domanda sulle out la fa Rolfi Milan News, chiede riuscire a farle esplodere definitivamente, sarà una delle sfide più affascinanti che l'attendono la prossima stagione? Sì, credo proprio di sì perché stiamo parlando di un talento, di un potenziale importante che secondo me si deve e si può sbloccare definitivamente. L'ultima è di Oggisport.it che ti chiede se quando hai preso in mano il Milan ti aspettavi un ultimo giorno di scuola così ricco di soddisfazioni? Ho sempre creduto nelle qualità della squadra e nel mio lavoro, quindi sono sempre stato fiducioso e positivo. Quando si comincia a lavorare si spera sempre di ottenere il meglio e il massimo e credo che ci siamo andati vicino. Grazie, buon lavoro e buon estate a tutti. Grazie a tutti voi.